La prima impressione è quella che conta E questa frase, soprattutto in ambito cinematografico, letterario e videoludico È davvero molto importante Per i libri la copertina è una cosa importantissima È la prima cosa che il cliente vede E se una copertina è fatta bene, io ti compro il libro Stessa cosa per i videogiochi Se nella confezione c'è una bella copertina Sono molto più invogliato a comprarlo Bello, bla bla E per i film una delle cose più importanti Soprattutto negli anni 70, 80 e 90 Era la locandina E lo è tuttora È pur sempre una delle prime cose che vediamo Prima di andare a vedere il film E se una locandina è bella Noi siamo ancora più invogliati ad andare a vedere quel film Se invece una locandina è un po' bruttina È balfatta Diciamo che la nostra voglia scende Però mai giudicare un libro dalla copertina, vero? Esatto Come mai giudicare un film dalla locandina? E con questo video, ragazzi e ragazze Voglio farvi vedere 5 locandine brutte Ma brutte Ma così brutte e tristi Vi faranno venire una voglia matta di vedere i film Che cercano di pubblicizzare? All'incirca pubblicizzare Perché chi cazzo li guarda sti film dalla locandina? E alcuni film probabilmente già li conoscete Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo! Numero 5 E partiamo con un classicone del trash d'animazione Ovvero Ratatouin, ragazzi Prodotto dalla Birkendo Casa di produzione brasiliana fallita grazie al cielo nel 2012 E di cui conosciamo le opere d'arte Grazie soprattutto a quel buon tempone di Yotobi E ragazzi cosa ha bisogno? Dire di questa copertina è... Ovviamente è meravigliosa un'opera d'arte Le locandine solitamente quello che fanno è mostrare un'azione del protagonista Che effettivamente avviene nel film No? Comunque qualcosa che ti invoglia a guardare la pellicola Ma in questo caso cosa sta succedendo? Perché abbiamo il protagonista vestito da cuoco Giustamente Ratatouin Con un pezzo di formaggio Che probabilmente puzza Esattamente come puzza il film Con dietro la cucina da cui nel film rubano effettivamente gli ingredienti segreti Però vediamo gli amici del protagonista Che stanno scappando Cosa succede? Però il protagonista intanto è felice a micca la telecamera Un bambino, comunque uno spettatore Soprattutto un bambino È confuso dalla situazione Quindi devo spaventarmi o devo essere felice Perché c'è questo imbecille che mi sta offrendo una fetta di formaggio? Non capisco Oltre vabbè al fatto che non nascondono la bruttura delle animazioni già dalla locandina Almeno con un loro film successivo Little Panda Fighter Come possiamo vedere Hanno fatto qualcosa per nascondere gli evidenti difetti del film, no? Piccola curiosità sia di Little Panda Fighter che di Ratatouin qui Lo studio di doppiaggio che ha doppiato il film in italiano È lo stesso in cui io sto studiando doppiaggio Ciao Robby, ti voglio bene Numero 4 Torniamo indietro nel tempo Nei favolosissimi anni 80 che hanno prodotto tanta bella roba Ma anche tanta bella merda Tipo Cosa cazzo sto guardando? Ragazzi, cosa è questa roba? Tralasciando il fatto che è bellissimo vedere come già nella locandina possiamo apprezzare il fatto che sia pattume E ci sia una pattumiera effettivamente Ma cosa sono quelle cose lì dentro? Cosa sono quelli sgorbi? Perché dovrei vedere questo film con quella roba lì? Ci sono quelle robe lì? Sì, ci sono e sono terrificanti Che poi la locandina in realtà non è nemmeno disegnata malissimo È una classica locandina anni 80 Ben disegnata, devo ammettere Però il contenuto ragazzi A parte il ragazzino che è caduto E non sta guardando il bidone pieno di mostri No, sta guardando da tutta altra parte Ma poi il bidone pieno di mostri La buccia di banana Dello schifo che cola lì Ma io dovrei guardarla sta monnezza Però è quasi ipnotica Io non riesco a staccare gli occhi di dosso Ma devo farlo per il mio bene E anche il vostro Perché altrimenti stiamo qua fino a domani NUMBER 3 Torniamo negli anni 2000 Ed ecco ragazzi Thanks Killing Il film non l'ho visto Ma solo la locandina In realtà mi fa venire tanta tanta voglia Di andarlo a vedere Allora possiamo vedere quello che Probabilmente il protagonista o antagonista del film Ovvero un tacchino assassino Che ha in mano Sull'ala Quella che dovrebbe essere una motosega Photoshopata molto molto male Devo dire però complimenti Il titolo ovviamente Thanks Killing La vendetta dei tacchini Nel giorno del ringraziamento Quindi americani State attenti Rick e morti vi ha avvisato Ma vi ha avvisato prima The thanks Killing Con ovviamente La catchphrase Del film Gobble gobble Motherf No ragazzi Sta locandina è fantastica Per l'amor di dio È terribile Ma è anche fantastica Perché Immaginatevi Un tacchino Che arriva da voi Incazzato nero Con una motosega Fra le ali E vi urla Glue glue Motherfucker Numero 2 Ragazzi Food fight Allora ragazzi Food fight L'ho messo in seconda posizione Non tanto perché La locandina È piuttosto brutta Perché È brutta e soprattutto non ha senso di esistere perché che cazzo sto guardando? Cioè un carrello della spesa con dentro uno squalo, balena con gli occhiali e un cappello, un basco però comunque uno squalo, una balena, che cazzo è? Quella che sembra essere una banana cowboy che sta per lanciare un lazo al fotografo che ha fatto la foto, tra virgolette un pellicano, comunque un volatile, che fa ok con... probabilmente fa ok perché è rassegnato, ha detto sono in stammonnezza e purtroppo sono lì, una donna bottiglia che lancia pancake, a mo' di free Che cosa? E lì dietro il protagonista del film, probabilmente con la sua ragazza, tra l'altro protagonista del film, che è un cane antropomorfo, antropomorfo vestito da Indiana Jones, seguito da una signorina umana, che deduco sia la sua fidanzata E in seconda posizione ragazzi, non tanto perché la locandina appunto è brutta ma perché è completamente un'altra cosa il film ragazzi Numero 1 Amici e amiche, santo il Dio La locandina che sto per andare a mostrarvi ragazzi È di un film che conoscete molto bene, per chi bazzica YouTube, i film trash soprattutto Sempre grazie al buon Jotobia abbiamo conosciuto sia il primo che il secondo film Ragazzi, la locandina di Beardemic Shock and Terror Ragazzi, qui è l'apoteosi del trash più assoluto, della nulla facenza, della pigrizia Fatta a locandina ragazzi, ma che bella è questa locandina A parte il fatto che è tornato il tacchino Cos'è questo? Cos'è? Perché c'è un tacchino qui che vola? I tacchini volano, non lo sapevo È sublime, è sublime Guardate come è confezionata bene questa locandina Cioè, non mi viene voglia di guardarlo all'istante Questo film La maestria con cui sono state incollate su uno sfondo generico di una cittadina qualunque Le aquile, o quelle che dovrebbero essere aquile, perché queste non sono aquile Vediamo appunto quello che dovrebbe essere un avvoltoio, un altro avvoltoio, un'aquila reale Solo non si vedono i due leocorni Non è solo questa, perché a pari merito con la locandina del primo Beardemic C'è anche Beardemic 2 The Resurrection Guardate la magnificenza, la bellezza, l'opera d'arte mobile Che è questa locandina Con i protagonisti pronti alla battaglia finale contro le loro acerrime nemiche Le aquile Le aquile appunto, vediamo qui che stanno attaccando i protagonisti Sempre quelli che sono poi, non sono aquile, tra l'altro sono avvoltoi Cazzo ci fanno degli avvoltoi lì Poi vediamo quest'aquila lì a destra che non c'entra un cazzo Però è lì che fa car Quindi va bene Hollywood sullo sfondo E una palma in fiamme con fumo dappertutto E tutto che prende fuoco E i protagonisti appunto pronti a combattere Con tra l'altro la frase From James Guglian The Master of Romantic Thrillers Questa frase si commenta da sola Devo dirvi qualcosa Io non credo E ragazzi quindi queste sono cinque delle locannine più brutte Che io ho trovato sul web di film Altrettanto brutti Ed è stato un viaggio mistico Devo ammettere che è stato un viaggio davvero tanto mistico Ma di questo tipo di locandine ce ne sono a centinaia Probabilmente a migliaia C'è un intero mondo da esplorare di brutture Tra locandine e film attrettanto brutti E quindi amici e amiche Se conoscete altre locandine brutte Segnalatemele qui sotto nei commenti E magari ci potrei fare un secondo video Analizzando altre meraviglie Della natura Che l'uomo Ha deciso di regalarci Tramite locandine Così tanto scene E quindi se volete un altro video come questo Ovviamente vi invito ad iscrivervi E ad attivare quella maledetta campanella delle notifiche Così vi arrivano tutti gli aggiornamenti Tutti i nuovi video che pubblico su questo bel canale Che sta crescendo Piano piano ma sta crescendo E non perdetevi gli shorts Che pubblico ogni giorno Sempre qui su YouTube Dove vi racconto qualche bella curiosità cinematografica Detto questo ragazzi e ragazze Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione E vi do appuntamento al prossimo video Ciao a tutti